Inizia la vaccinazione anche nelle farmacie comunali. Qui siamo alla comunale di San Giuliano, alle porte di Arezzo, dove appunto c'è stata proprio oggi la prima seduta vaccinale. La vaccinazione nelle farmacie è aperta a tutti i residenti della regione toscana o anche alle persone domiciliate temporaneamente per motivi di lavoro, di salute o quant'altro, purché siano in grado di completare il ciclo vaccinale nella stessa struttura dove l'hanno iniziato. È aperta a tutti dai 12 anni in su, tra l'altro dai 60 ai 79 anni il soggetto può scegliere o se essere vaccinato con Pfizer o essere vaccinato con il Johnson. Da qualche giorno è possibile anche la vaccinazione in farmacia per gli ultraottantenni purché non ci siano delle patologie quindi per i fragili o gli estremamente vulnerabili. Quindi chi deve fare la terza dose booster a chiusura del completamento del ciclo vaccinale fatto entro sei mesi prima può eventualmente optare per la farmacia o come il medico di famiglia nella stessa misura. Non c'è nessuna differenza tra fatta in un hub e fatta in farmacia. Le modalità sono simili. Giustamente nelle farmacie la prenotazione viene svolta dalla singola farmacia. Questo significa che l'utente si prenota, viene scelto un orario e un giorno specifico. Spesso succede che prenotandosi in questo periodo, tempo una settimana, possiamo avere già un posto a disposizione. Nelle farmacie, qualora si iniziasse il ciclo vaccinale, va finito nella stessa struttura come dicevo prima e la stessa farmacia che poi tra l'altro in accordo con il paziente decide per la seconda somministrazione qualora il ciclo vaccinale preveda due somministrazioni o più somministrazioni.